Un malore mentre era in sella, la sua vespa è stato salvato e portato d'urgenza nell'ospedale in cui lavora. Grave incidente stradale per il 61enne primario di geriatria dell'ospedale di Campo San Piero. L'uomo domenica pomeriggio stava percorrendo la strada regionale 307 a Campo San Piero in direzione Campo San Martino, dove abita. All'improvviso ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, ed è caduto violentemente a terra. Rimasto a lungo privo di conoscenza, è stato subito trasportato d'urgenza all'ospedale Pietro Cosma, dove si trova ricoverato in terapia intensiva.